salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale angolo creatività di enza in questo video tutorial vi mostro come lavorare ai ferri il punto nido d'ape precedentemente già vi ho fatto vedere in un altro video come si lavora il punto nido d'ape però questo qua è lavorato in modo un po diverso vedete l'effetto è bellissima non è un punto reversibile perché una parte che va su diritto e una parte che va sul rovescio è una lavorazione che si presta bene ad essere lavorata sia con filati più doppi che con filati più sottili è ideale per poter realizzare delle bellissime copertine possiamo realizzare dei maglioncini possiamo realizzare dei cardigan eccetera è semplicissimo da realizzare perché non dobbiamo fare altro che ripetere sempre solo due ferri di andata e di ritorno tranne che per l'inizio che dobbiamo fare solo per l'inizio un ferro a diritto e un ferro a rovescio poi la lavorazione si svolge solo ed esclusivamente su due ferri è un punto semplice molto facile quindi ideale anche per coloro che stanno iniziando a lavorare da poco ai ferri quindi per i principianti bene prima di andare al tutorial per vedere come realizzare questo bellissimo punto voglio vi voglio ricordare per chi non l'ha ancora fatto di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella così da poter essere aggiornati su nuovi tutorial inoltre vi invito anche a seguirmi sia sulla mia pagina facebook che sulla mia pagina instagram di cui vi metto il link delle pagine giù nell'info box bene ora andiamo al tutorial e realizziamo insieme questo punto allora per realizzare questo punto dobbiamo avviare un numero pari di maglie perché si sviluppa su un numero pari e io per il mio campioncino vado ad avviare sui ferri 18 maglie 16 più due del bilanio in totale 18 maglie faccio il mio cappietto che è una prima maglia quindi vado ad avviare le restanti maglie quindi due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici 16 17 e diciotto allora io il mio campioncino lo sto realizzando con dei ferri numero cinque e sto usando un filato adatto per questo numero di ferri taglio un po' con la codina poi per quanto riguarda l'avvio delle maglie sui ferri di come si lavora la maglia diritto di come si lavora la maglia rovescio io ho fatto un video tutorial a parte e vi metto il link del tutorial giù nell'info box bene una volta che abbiamo avviato le nostre 18 maglie siamo pronte per poter iniziare a lavorare il punto allora come vi ho detto già prima solo per l'inizio andremo a lavorare un ferro a diritto quindi un ferro tutte le maglie a diritto tutte le 18 maglie le andremo a lavorare a diritto e questo lo andremo a fare solo per l'inizio del lavoro per avviarci un po' il lavoro per per crearci una base in modo a poter poi realizzare il punto quindi ho lavoro il primo ferro a diritto e il secondo ferro lo vado a lavorare tutto a rovescio tranne la prima e l'ultima maglia che sono maglie di vivagno le vado a lavorare a diritto quindi la prima maglia la lavoro a diritto tutte le restanti maglie le vado a lavorare a rovescio così come si presentano quindi una volta terminato anche quest'altro ferro tutto a rovescio ora dobbiamo andare a lavorare solo ed esclusivamente su due ferri quindi penultima maglia a rovescio e chiudo la riga con una maglia di vivagno a diritto quindi abbiamo creato in questo modo lavorando questi due ferri uno a diritto e uno a rovescio abbiamo realizzato la base per poter iniziare a lavorare il nostro punto a nido d'api bene iniziamo a lavorare in questo modo allora lavoro la prima maglia la maglia di vivagno e la vado a lavorare a diritto mentre invece l'altra maglia la vado a lavorare a diritto normale questa altra maglia invece la vado a lavorare puntando il ferro non qui come se volessimo lavorare un diritto normale ma puntiamo il ferro nella maglia sotto qua e vado a lavorare una maglia a diritto l'altra maglia subito dopo la vado a lavorare a diritto normalmente così mentre invece l'altra vado a puntare il ferro sotto così e vado a lavorare una maglia a diritto alterno con una maglia a diritto normale la prossima invece la vado a prendere da sotto qua così una maglia a diritto normale e un'altra invece da sotto una maglia a diritto normale e una maglia presa da sotto andiamo a puntare il ferro vedete nella maglia sotto e lavoriamo un punto a diritto una maglia a diritto normale e una maglia presa sotto così diritto normale e una maglia presa di sotto e vado a chiudere con una maglia a diritto la maglia di vivagno quindi questo primo ferro non abbiamo fatto altro che alternare una maglia a diritto normale con una maglia a diritto però presa da sotto quindi non dobbiamo fare altro che alternare questa lavorazione abbiamo lavorato quindi il primo ferro per quanto riguarda il punto nido d'api ora dobbiamo lavorare il secondo ed ultimo ferro del modulo allora il ferro di ritorno nel ferro di ritorno qui dobbiamo prestare un po di attenzione però una volta che avete capito bene come si lavora poi risulterà semplicissimo da andare avanti allora lavoro la mia prima maglia a diritto la maglia di vivagno ora qui abbiamo la maglia che abbiamo lavorato prima sul diritto che abbiamo lavorato abbiamo preso di sotto e vedete come si presenta con due asole una e due noi dobbiamo puntare il ferro nell'asola sotto così e poi puntiamo il ferro nella maglia e andiamo a lavorare un diritto facciamo cadere la maglia dal ferro la maglia subito dopo è quella che abbiamo lavorato a diritto normale e quindi si presenta singola vedete l'asola è singola e quindi la vado a lavorare normale la maglia dopo è quella che si presenta con l'asola doppia quindi punto il ferro nell'asola sotto punto il ferro nella maglia che sta sul ferro e vado a lavorare un diritto la maglia dopo è singola e la lavoro normalmente la maglia successiva si lavora normalmente perché una maglia con una sola singola la maglia dopo ha l'asola doppia vedete questa e questa io punto il ferro qui punto il ferro nella maglia che sta sul ferro e vado a lavorare un diritto lavoro una maglia normale singola e la maglia con una sola doppia e la maglia con una sola doppia così non dobbiamo fare altro che alternare questa lavorazione quindi una maglia con una sola singola questa qua la riduce la individuate presto perché comunque si vede subito e la lavoriamo normalmente mentre invece questa qua che si presenta con una sola doppia punto il ferro nell'asola sotto vedete sono due asole punto il ferro in una sola asola e lavoro punto il ferro anche nel allora punto il ferro nell'asola sotto punto il ferro nella maglia che sta sul ferro abbiamo quest'altro lato e lavoro una maglia a diritto lavoro una maglia a diritto normale singola lavoro questa acqua con l'asola doppia lavoro la maglia con l'asola singola e poi lavoro questa qua con una sola doppia lavoro la maglia con l'asola singola e chiudo con un punto a diritto che è la maglia di divagno quindi abbiamo in questo modo terminato il modulo ora non dobbiamo fare altro che ripetere dal secondo dal terzo ferro che abbiamo fatto una ferro a diritto un ferro a rovescio il terzo ferro abbiamo iniziato a lavorare a ma appunto nido d'ape quindi dobbiamo ripetere sempre dal terzo ferro quindi ora andiamo a rifare di nuovo il punto e dobbiamo lavorare in questo modo allora lavoro la mia prima maglia di divagno a diritto ora vedete che la maglia che abbiamo lavorato con una sola singola dietro si presenta così normalmente è una maglia a diritto normale quindi io punto il ferro sotto e lavoro una maglia a diritto la maglia con l'asola doppia vedete che questa qua cioè si vede molto chiaramente la vado a lavorare normalmente la maglia con una sola singola la prendo da sotto la maglia con una sola doppia la lavoro normalmente singola la vado a lavorare da sotto la maglia con la sola doppia la lavoro normalmente e così dobbiamo alternare la lavorazione quindi la maglia che si presenta normale senza con una sola singola vedete la vado a prendere da sotto la maglia che ha due asole le asole l'asola doppia la prendo normalmente e così via per tutta la lavorazione la maglia con l'asola doppia la prendo normalmente la la maglia con l'asola singola la prendo da sotto doppia normalmente e chiudo con una maglia di divagna diritto il ferro di ritorno è uguale a come prima vi faccio vedere di nuovo vedete questo è il risultato che abbiamo ottenuto fino ad ora ora andiamo a lavorare il ferro di ritorno allora il ferro di ritorno che si presenta sul rovescio andiamo a lavorare così che poi andremo sempre a lavorare a diritto però questo è il rovescio del lavoro una maglia a diritto che è una maglia di vivagno e abbiamo di fronte a noi vedete una maglia con l'asola singola e l'andiamo a lavorare normalmente mentre invece ora si presenta la maglia con l'asola doppia quindi che faccio punto il ferro nell'asola in una delle due asole quella che sta di sotto punto il ferro nella maglia e lavoro un punto a diritto la maglia che si presenta con l'asola singola la vado a lavorare normalmente la maglia con l'asola doppia prendo l'asola prendo la maglia e lavoro un diritto la maglia successiva la paglia la vado a lavorare normalmente asola doppia e la lavoro in doppio così singola doppia e vado sempre ad alternare così quindi dobbiamo sempre e solo ripetere questi due ferri ecco fatto l'ultima maglia doppia e chiudo con una maglia a diritto vedete che la lavorazione sta iniziando a prendere forma inizia a formarsi appunto questa lavorazione a nilo d'api ora non dobbiamo fare altro che riprendere la lavorazione questo diritto quindi lavoriamo una maglia a diritto e una maglia di vivagno la maglia che si presenta con l'asola doppia questa è la parte che va sul diritto la maglia che si presenta con l'asola doppia andiamo a lavorare normalmente la maglia invece che si presenta con una sola singola una sola qua la prendiamo da sotto doppia normalmente singola da sotto e così andiamo avanti il ferro di ritorno non dobbiamo fare altro che ripetere lo stesso quindi la maglia che si presenta singola con l'asola singola la andiamo a lavorare normalmente la maglia che si presenta con l'asola doppia prendiamo puntiamo il ferro nell'asola sotto puntiamo il ferro nella maglia che sta sul ferro andiamo a lavorare un diritto quindi non dobbiamo fare altro che ripetere questa lavorazione per tutto il progetto che dobbiamo realizzare bene andiamo avanti e vi faccio vedere la lavorazione vado avanti con il mio campioncino e poi vi farò vedere l'effetto di questa lavorazione bene ed ecco che una volta che ho terminato il mio campioncino questo il risultato quindi un bellissimo punto molto compatto e allo stesso tempo anche molto morbido semplicissimo da realizzare basta solo memorizzare i vari passaggi che poi ne sono soltanto due bene questo è il punto che volevo farvi vedere spero di esservi stata chiara spero di esservi stata utile spero di avervi dato qualche spunto in più per poter realizzare qualche vostro progetto se avete qualche domanda se avete qualche consiglio qualche richiesta lasciatemi pure un commento giù nella sezione commenti io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial ciao